Siamo con Patrick che abbiamo visto a gennaio del 2017 di quest'anno, adesso siamo a giugno e avevamo una situazione con un test di shear molto basso, avevamo 3,5 mi sembra, 5 a destra e 3 a sinistra di millimetri 5 minuti, avevamo una beauty map anche questa molto bassa perché addirittura a sinistra dopo un secondo si rompeva già la lacrima e siamo sui 5-6 secondi si rompeva l'altra parte. Com'era la situazione? Era critica perché ormai ero diventato ipersensibile alla luce, al sole, mi dava fastidio un po' tutto, anche lavorando con il pc era un po' complicata la situazione, buon buccioli frequenti, non dormire di notte perché poi si avrebbe problemi di fastidio e i lenti a contatto che non si potevano mettere assolutamente, dopo la terapia non l'ho più avuto. Abbiamo fatto 4 sedute, ci sono pulsate, siamo a giugno del 2017, questa è la situazione del beauty, intatto, intatto quindi non c'è più un'eperfolazione e soprattutto lo shearmer siamo passati quindi da 5 a destra e 3 a sinistra a 15 a destra e addirittura a 35 a sinistra. Adesso come stai? Notevole, notevole, il sistema funziona, lo consiglio a chiunque abbia problemi di occhio secco perché cambia veramente la vita. Lenti a contatto che puoi metterli di nuovo? Sì, 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 naturalmente, il pc non c'è problema. Non metti più niente, nel lacrima? No, 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 niente, niente, solo un po' di accortezza, comunque tenere pulito sempre, per il resto tutto a posto. Ok, grazie. Grazie a voi.